Siamo a Cibustec 2023 e oggi incontriamo un'eccellenza italiana, l'azienda Vimco. Ce la racconta Chiara Mambretti, Sales & Marketing Manager. Chiara, di cosa si occupa Vimco? Buongiorno a tutti, Vimco è un'azienda italiana fondata nel 1980 che quindi da più di 40 anni si occupa di confezionamento secondario in cartone. L'azienda è nata principalmente negli anni 80 per realizzare macchinari dedicati alla formazione delle scatole, ma negli ultimi anni, 20 anni almeno, si è focalizzata principalmente sulla gestione del prodotto all'interno del confezionamento. L'azienda ha come focus quello di dare al cliente una macchina che sia il più flessibile e ergonomico possibile. Noi ci troviamo qua davanti a una macchina, suppongo sia la vostra punta di diamante di Cibustec, di cosa si tratta? La macchina che presentiamo quest'anno è una soluzione robotica con un sistema di visione integrato per gestire i prodotti in arrivo in maniera random, per controllare la qualità, dimensione, tipologia di prodotto in arrivo e ovviamente poi inserirli all'interno della confezione. Grazie Chiara, benissimo, tutto chiaro, allora buona fiera e buon lavoro. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.